Musica La cosa più semplice è questa, i sindoli passano sul traguardo che state lì quattro volte. La cosa più semplice è così. La griglia è attaccata lì, la potete leggere lì. Non mi impegnate al percorso, le persone che passano, spero che mi devia. Lo so. Non mi impegnate al percorso. Mattia, lo sai dove? Non sei seguito. E questo è l'altro, c'è il cartello 50. Ok. Noi siamo pronti. Allora, per favore non vi dovete stare sul percorso. Alla terza, li diamo spalifico. Allora, per favore. Passiamo se staciano. Cinque, due, due, tre, due, uno, tre. Grazie a tutti 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 5, 4, 3, 2, 1, via La partenza numero 28 10, 5, 4, 3, 2, 1, via Grazie a tutti 5, 4, 3, 2, 1, via La partenza numero 0 10, 5, 4, 3, 2, 1, via 10, 5, 4, 3, 2, 1, via 10, 5, 4, 3, 2, 1, via 5, 4, 3, 2, 1, via 5, 4, 3, 2, 1, via 5, 4, 3, 2, 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 1, via Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 10, 5, 4, 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. 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 5, 4, 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 5, 4, 3, 2, 1, via! 1, via! 1, via! 3, 2, 1, via! 1, via! 1, via! 1, via! 1, via! 1, via! 2, via! 1, via! 1, via! 1, via! 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via 5, 4, 3, 2, 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 via ma che ha fatto si è fermato prima del tempo lui si è fermato prima simone 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, 3, 2, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, 3, via! 5, 4, via! 6, 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 via! 7, via! 7, via! 7, via! 7, via! 7, via! 8, via! 8, via! 8, via! 8, via! 9, via! 9, via! 9, via! 10, via! 10, via! 10, via! 10, via! 10, via! 10, via! Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vai. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 5, 4, 3, 2, 1, via! Sì, 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 sì. I move! Vedi che ancora gira? Vedi che ancora gira? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Si è alzato proprio adesso il vento. Quattro, uno, tre, due, uno, e qui via, qui via. Quattro, uno, tre, due, uno, e qui via. Grazie a tutti. 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 i titoli di CSI che il Presidente devol fare tutte insieme in Pappamania. Sarà una festa e si considerano la premiazione di 4-5 discipline del ciclo di lavoro. Quindi sarete chiamati per lettera dal Presidente, che sarà una serata e che si consegneranno le maglie del CSI. Allora, la classifica di oggi per le donne, prima Rossi e Anna Maria, seconda Pagnotti. Grazie. 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 for me, secondo Lucci, primo Antonello. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.